Agenti della squadra mobile hanno eseguito la misura del divieto di avvicinamento a carico di un uomo di 50 anni di Siracusa. Il provvedimento, adottato dal GIP del Tribunale Aretuseo, si è reso necessario per le continue condotte persecutorie e violente perpetrate dal cinquantenne nei confronti di una donna. L'uomo, infatti, ha tempestato per mesi la donna con messaggi, telefonate, pedinamenti e appostamenti e inoltre, in almeno un'occasione, la percossa causandole delle lesioni. Per tali fatti, il GIP di Siracusa ha applicato nei confronti del cinquantenne la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla donna e con l'obbligo di mantenere una distanza di almeno 150 metri dalla stessa. Gli agenti del commissariato di Augusta, invece, nell'ambito dei controlli nei confronti di soggetti che si trovano agli arresti domiciliari o che sono sottoposti ad altre misure limitative della libertà personale, hanno denunciato un uomo di 42 anni sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, risultato assente al controllo negli orari in cui deve permanere nella propria abitazione. Infine, un 84enne sottoposto alla detenzione domiciliare è stato denunciato per evasione.